Crotalo, 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 crotalo! Voi mostri! Dice che l'ho spinta, non è vero che l'ho spinta. Ma non è una cosa... Voglio vedere se l'ha spinta. Ma secondo voi questa non è una violenza psicologica? No, è molto più grave quello che fai tu a me. Molto più grave le parole che mi dici tu sono molto più grave. Cosa faccio? Perché ti chiamo ciccione quando tutti ti chiamano po'. Crotalo, 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 crotalo. È al forno. Grazie pubblico, grazie. Crotalo, 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 crotalo. Voi mostri. Ma il pubblico sta applaudendo. Cascarbi 2.0. Calmi un attimo ragazzi. Io me ne vado. Cioè il pubblico sta applaudendo questo spettacolo orrendo. Allora, scusa Antonella. Ecco. No, ma non è così Antonella. Ma non è così. Infatti noi mi state usando per fare ascolto. Ma a chi ti rivolgi? A tutti. A tutti. Allora, a tutti. E ciò? A come la notillazione. Allora, a come la notillazione. Allora, a qui? Allora, a chi? E e quindi... Allora, a chi?